Cristina Ponzanelli è ufficialmente il nuovo sindaco di Sarzana. Questa mattina a Palazzo Civico il dottor Marco Viani, presidente della Commissione elettorale centrale, assistito dalla segretaria dottoressa Rosina Ianni, ha ufficialmente proclamato la Ponzanelli nuovo sindaco. Al termine invece si è proceduta la proclamazione dei consiglieri eletti. Ora, entro dieci giorni, sarà convocato il primo consiglio comunale che si dovrà attenere entro i successivi dieci giorni dalla convocazione. Adesso l'attenzione è verso la composizione della nuova giunta che affiancherà il sindaco Ponzanelli. A un anno di distanza dunque dalla storica vittoria di Pierluigi per Achini alla Spezia, anche il comune di Sarzana, il secondo più grande della provincia, passa clamorosamente al centro-destra, con il modello Totti che dunque si dimostra vincente anche qua. Per quanto riguarda il PD, questa sconfitta a Sarzana rispecchia quello che è l'andamento a livello nazionale del partito.